ciao a tutti da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti e ben ritrovati a questo appuntamento post q3 che qualifiche che qualifiche quasi due ore di qualifiche i piloti bellissimo che arrivano in pista alle 6 del mattino come i tempi del kart perché le prove di carburazione le si fanno di mattina prestissimo le si facevano e quindi tanti tanti ricordi secondo me che sono affiorati per molti piloti poi 5 bandiere rosse tante vetture danneggiate alonso a muro e sainz a muro albon cola pinto albon ragazzi l'ha distrutta e comunque anche i danni fatti da sainz sono veramente veramente tanti quindi una sessione di prove bagnata ma non troppo che conferma quello che dicevo ieri sì la visibilità è un problema stanotte a dire il vero e ho ripreso questo discorso la visibilità è un problema però comunque anche a livello di tenuta meccanica queste vetture non sono concepite per girare sul bagnato e il park ferme il parco chiuso non va incontro a questo genere di qualifiche a questo genere di gare quindi si deve un po ripensare questo concetto di qualifiche bagnate e quantomeno si dovrebbe permettere ai team di operare sugli assetti non andare sempre a soluzioni di compromesso piccola nota vediamo un po come sono andate queste qualifiche ragazzi maluccio per la ferrari bene per l'ando norris così così per la mcclaren che comunque piazza un pilota davanti la prima ferrari e il secondo pilota davanti la seconda ferrari che sainz che temo possa anche andare un po più indietro nella griglia perché forse dovrà sostituire qualche pezzo danneggiato posteriore sinistra si è completamente rotta staccata dall'auto era sollevata quindi per lui problemi comunque vediamo i primi dieci norris russell a un decimo e sette poi su no da sette decimi dalla pole o con bravissimi questi due piloti anzi tre mettiamoci anche l'hosen quinto poi leclerc che è stato un po sfortunato con l'ultima bandiera rossa era nel giro buono e poi non è riuscito a mandare in temperatura le gomme a sufficienza anche perché la ferrari fatica in questo lo sappiamo poi albon che vedremo se riuscirà a partire settimo vedremo se riuscirà la williams a metterne assieme almeno una visto il poco tempo che ci sarà da qui alla gara che seguiremo in diretta ragazzi alle 16 e 15 sul nostro secondo canale yellowskid selezione tv 2 e poi abbiamo piastri dietro albon e alonso che anche lui l'ha messa a muro stroll che anche lui l'ha messa a muro e poi bottas bestappen danneggiatissimo dalla bandiera rossa l'ultima esposta in q2 poi perez sainz gasli emilton berman cola pinto anche lui a muro hulkenberg e joe oltretutto vi dico una cosa ragazzi bestappen ha detto un qualcosa di vero perché la direzione gara ci ha messo tutto questo tempo a esporre la rossa lui era qualificato però ha permesso ad alcune vetture di fare il tempo e ad altre no tra cui la sua allora a parte che questa cosa mi preme dirlo è successa tante volte anche a suo favore però è una pecca è una mancanza della direzione di gara quindi ho come la sensazione ragazzi che si voglia portare il mondiale aperto fino all'ultima gara da un paio di gare a questa parte austin escluso quindi dal messico in poi sembra che ci sia questa voglia certo ad austin se c'erano questa voglia si sono mossi un po male però oggi è anche un po ieri questa sensazione un po a leggia magari ci stiamo sbagliando e magari il direttore di gara i suoi buoni motivi per aver ritardato così tanto l'esposizione della bandiera cos'era rossa però vi posso dire una cosa ragazzi la vettura era nella via di fuga ma in una posizione molto pericolosa in uscita da curva 3 se ne fosse uscito un'altra ci sarebbe finita addosso la rossa andava data prima anche se ovviamente nel primo settore c'era la gialla comunque questo è quanto poi di altro cosa dire peccato per la ferrari una qualifica più avanti con tutte e due le vetture in cui 3 sarebbe stata eccezionale bravissimi tutti i piloti che invece sono riusciti a schierarsi lì davanti e una volta tanto abbiamo anche l'anno norris che onestamente per una volta ha fatto quello che deve fare cioè mettersi davanti a tutti senza se e senza ma questo è quanto la puntata finisce qui perché una premura incredibile devo andare a dare da mangiare un po di bocche da sfamare e poi c'è poco tempo anche perché vorrei la tabella dei tempi oggi presente quindi devo lavorare un po tutto qui ci vediamo per la qualifica ditemi ciò che ne pensate vi prego di vedere e ascoltare bene ciò che dico nel video di ieri l'ultimo il penultimo quello di stanotte perché preferisco avere un video che fa 5 10 mila visualizzazioni ma senza gente e mi sto contenendo nel dire gente che va a commentare sulla base di cosa sulla base di cosa ascoltatelo il video non limitatevi al titolo perché il titolo può voler dire mille cose e non mi venite a dire che ho utilizzato termini che hanno fatto capire che cosa quella video la quella copertina la possono voler dire scandalosa la gestione di gara la gestione dei piloti lo swap tutto quello che è cioè per piacere ascoltate ciò che viene detto bene un saluto un bacio un abbraccio un complimento ancora tutti coloro che seguono il canale con passione e interesse ascoltando quello che si dice che siete la stragrande maggioranza preferisco 10.000 buoni che 40.000 come quelli del video post gara sprint un bacio grande ciao a tutti ci vediamo poi per qualifiche e per gara e post gara sull'altro canale e poi qui ciao